Benvenuti ragazzi nel canale Serie A. La partita di oggi tra Bologna e Sampdoria è terminata 2-0. La 32esima giornata di Serie A al Dallara la squadra di Mijajlovic trova entrambi i gol nel secondo tempo. Dopo aver rischiato sull'occasione della Samp per Caputo, Arnautovic firma il vantaggio all'ora di gioco, mettendo in rete da pochi passi sull'assist di Dix. Poi grazie a una bella giocata serve il bis, dopo due legni colpiti dallo stesso attaccante e Sansone, che chiude i giochi. I rosso-blu tornano a vincere dopo 5 giornate e inguaiano la Samp a più 7 sul Venezia, che ha una gara da recuperare. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi per ricevere più notizie sul campionato, la classifica a marcatori e sulle prossime partite di Serie A. Grazie e alla prossima raga! Grazie a tutti! Grazie a tutti!